Domani 3 febbraio 2019 il Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano si darà il terzo appuntamento dei laboratori di Museo Eclatè, Museo Senza Limiti, rivolti ad approfondire all'insegna e al divertimento la conoscenza dei luoghi archeologici della città di Ponte Cagnano. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto Museo Eclatè, Museo Senza Limiti, cofinanziato dalla Regione Campania e presentato dal Comune di Ponte Cagnano Faiano, in partenariato con il Polo Museale della Campania, Museo Archeologico di Ponte Cagnano, Regambiente Campania e Università degli Studi di Salerno, che si propone di portare il museo nella città di accompagnare le comunità di Ponte Cagnano Faiano alla scoperta del ricco patrimonio culturale del territorio. I laboratori di Museo Eclatè, Museo Senza Limiti, continueranno fino al mese di giugno, ogni prima domenica del mese, proponendo in senso cronologico un viaggio ideale nella storia antica della città di Ponte Cagnano. Grazie.